...con piacenza che le sensazioni non necessitino di riconoscimento di qualità dei topologi e questo è una cosa che segnerebbe... chiedo scusa, se si possono spiegare i ritorni aperti? prego perché stamattina... non è la transazione ai sensi del testo primo, sono due cose diverse stamattina il collega... posso parlare? prego il collega Buccio ha fatto una domanda a Stucinità all'avvocato di Avellone, attenzione e adesso... non c'è un po' no, no, non c'è un po' no, non c'è un po' non c'è un po' non è un po' ma che è un po' abbiamo allora io penso che faccio molto più in cui faccio molto più ossia se le transazioni debbano approdare il consiglio comunale sotto forma di debito o di bilancio la risposta a questa domanda che è stata categoria cioè le transazioni non debbano essere riconosciute in qualità di debito o di bilancio ed è una risposta che mi aspettavo che mi fa piacere a prendere il problema appurato che la transazione non debba poi venire il consiglio comunale e poi il bilancio è che diventa difficile delegare la transazione del contenzioso giudiziario a poche persone ed è per questo che un ammetto fa adesso non ricordo bene dei dati noi crediamo l'istituzione di una commissione speciale che poteva valerciare i tecnici esterni che potesse evadiare verificare la bontà di queste transazioni e ricordo benissimo che quando poi quella delibera di consiglio comunale fatta proposta di debito il consiglio comunale passò ad una limitata dopo di portati e dopo di dare oggi caro collega conciuto che te lì ci sono ci sono benvenuti e tu ritorni sulla stessa proposta che facevano loro di pensione prosigliere di funzio lei mi vuole studiare dopo piacciamo conciuto consigliere di funzio come succiarcene avvericolato da di Per cui, per esempio, sentasi da fare con i denti e sinceramente, anche sui denti, soprattutto poi quando la medica parte da chi non può predicarlo in un certo modo. Perché il primo succio sei tu, se ti rischi di questo ordine. Perché non è mia abitudine, rispondere dalla volontarietà, dalla tentata volontaria. Io ti sto dicendo una cosa che è diversa, che la tua proposta, io la faccio io. Nel senso che oggettivamente alla tua propria 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 knot io non voglio rispondere con la stessa modalità ma giù c'è il vocale ma giù c'è il vocale perché quello che si dice ce la fai l'altra cosa è che tu non ci fai noi la stiamo parlando qua non da prendere commissione politica come possa da consigliere comunale ma vorrei intendere un gruppo di lavoro inteso come l'approcciamento dell'ufficio del campo per cui parvenne secondo me non è la stessa cosa ma nel senso che la vita che alla vita sulle transazioni tu la discrezionalità non la concedi su questo devi dimostrare che non essere ciccio con l'ipaduccio la discrezionalità della transazione tu la tribunisci ma guarda faccio non è che questi atteggiamenti fatti sono sempre pobo si vanno a salvere di più riesce perchè non avendo quanto si vede non è la costa e il giugno è in grato e la formula posso chi vede posso chi vede Pasqua 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 Decidi quello che vuoi fare. Troppo tempo. Adesso lo decidi scaricare. Il programma dei tempi di cori bilancio è un problema serio. Rispetto a qua, richiede la transcesa e città un'approvazione così semplice, secondo me, non è un atto di grande responsabilità. Stamattina prendo le transazioni che non vengono poste alla presenza del Consiglio dei tempi di cori bilancio. Lo prendo nel primo anno. Su quello che tu dici che occorre rafforzare l'ufficio legale, io lo condivido. Tant'è vero che noi anche sull'ufficio dei tutti stiamo preparando un nostro ospetto che cerchi di evitare questa realizzazione delle servizi dei tutti. Cuccio, ma che amministra la città, dovrei fare le proposte come tu stamattina stai facendo. Ma quando per subire gli atteggiamenti studi, scusami se mi consento, perché non lo sento. No, ma la differenza sta nella recezione di quello che dice. Quando si parla di ascolto in silenzio, quando invece qualcuno di qua vada, mi piace qui, e non ne capiscono tutti. Questa è la differenza. La questione era questa. La questione era questa. Se invece non si parla di ascolto in silenzio, la questione non si parla di ascolto in silenzio. Ma questa è sì, la nostra propria promozione da Marta e del Consiglio Basotti, una sciolta. Va bene? Quindi con tutto il mio intervento. Grazie, non è proprio che se lo dobbiamo fare. Aspettate che se decidi che i colleghi caricaranno a quello che io, che non tutte le transazioni possono essere fatte senza dividire poi i successivi, se non hanno la necessaria, se non c'è la necessaria che garantisca la limitazione, senza che diventino il tempo di un po' di nulla. E' no, questo è il sogno, c'è già la loro proposta. Però io però, se non è la proposta del consigliere Cianello, volevo solo lui, c'è già stata una proposta da parte sua e un invidio del Consiglio Comunale e... ho capito, no? E' il Consiglio decide di andare a fare il mio, perché viceversa le sue distanze, la mia stiglia e la mia stiglia. Vi dico che se necessario, non ha licitato il dibattito, che sicuramente sarà fatto successivamente per quanto riguarda il possesivo di capo, e di passato, se vi vedete un po' di nulla, direttamente al pubblico, pure per non creare, per ora, non credo che, anche perché, nel momento in cui, non consumiamo nessuna operazione, che è inutile a continuare a fare il dibattito, se vi procedete a questo punto stretto, ci prenderò la proposta che abbiamo già fatto e fuori. Abbiamo deciso, oggi, di portare al consigliere Cuccio, il Consiglio Senato di Stato, che sarà deciso che la votazione del gruppo invocato ai giorni politici, deciderà che la votazione che vogliono portare, e nel prossimo motivo portare, dove ci sarà il secondo me, la cittadina dell'interessore, e dove ci sarà anche il Collegio dell'Istituto delle Poste, che dovrà dare i quali parenti, i quali parenti, hanno abitire un guardato, per cui io, se siete d'accordo, passerei alla votazione della proposta per il mio, guardo la consigliere che sta venendo, è un assessore variabile. Assessore variabile!